Ciao ragazze, bentornate a tutte, ho fatto un giro da Happy Casa e volevo farvi vedere che cosa ho acquistato. Ho acquistato questo qua, che è un bruciatore per tart, pagato soltanto 2,99€. L'ho preso bianco perché c'era anche tipo un color crema, un color così, e quindi non mi piaceva tantissimo, mi piaceva di più il bianco e quindi ho voluto prendere questo qua. Poi, girando, 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 ho trovato felicissima questo qui, il famosissimo dentifricio Marvis alla liquirizia. Questo qua è quello grande, da 75ml, appunto contentissima, ho voluto assolutamente prenderlo, e questo qua l'ho pagato 2,79€. Sempre poi, girando, girando, mi sono trovata nella sezione sconti e ho trovato due cose che non ho potuto lasciare lì assolutamente. Sto parlando di questo porta cosmetici qui, a 9 scomparti, questo qua. Pensate che questo qua l'ho pagato soltanto 2,99€. E quindi, come potete ben capire, non potevo lasciarlo lì assolutamente. E poi, a fianco proprio, ho trovato quest'altro, che è quello là con due cassetti. Questo qua, invece, sempre in sconto, l'ho pagato 5,99€. Questo qua, da scritto, cofanetto portagioie, ma assolutamente noi amanti del make-up lo utilizziamo, appunto, per riporci il make-up. C'era anche quello là tra i cassetti, c'era anche il portadischetti, ce ne erano tanti. Però ho voluto prendere questi qua, perché erano appunto quelli là in offerta, e poi perché mi piacevano questi due. Li ho voluti prendere, perché avendo intenzione di sistemare appunto i miei trucchi, e avendo poco, pochissimo spazio a mia disposizione, trovo che siano una validissima alternativa per riporre i trucchi in modo carino ed ordinato. E quindi, se anche voi, come me, avete pochissimo spazio da dedicare ai vostri trucchi, assolutamente sono cose che vi consiglio. E quindi, niente, ragazzi, questi erano i miei pochi acquisti fatti oggi da Epicasa. Io vi mando un bacio grandissimo. Se volete, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!